Nella giornata di ieri, personale della Polizia Municipale, nel corso di specifiche attività di controllo anti-Covid-19 disposte dalla Questura di Salerno, che ha chiamato in causa anche la Polizia Municipale della provincia di Salerno, hanno accertato e contestato la violazione di norme statali ad un titolare di un negozio di abbigliamento di via risorgimento, il quale non osservava l'obbligo di chiusura imposto per tale tipo di attività in riferimento alle condizioni dettate dalla zona rossa. È scattata la sanzione amministrativa di 400 euro per il titolare e la sospensione dell'attività per cinque giorni. Nella stessa giornata, su segnalazione del Dipartimento di Prevenzione Asra Salerno II, sempre gli operatori della Polizia Municipale hanno accertato che una cittadina di nazionalità statunitense domiciliata ad Agropoli sia allontanata probabilmente dal territorio nazionale, senza autorizzazione dal Dipartimento dedicato dell'azienda sanitaria locale. Per la stessa era stata accertata la situazione di positività al Covid-19 in data 22 febbraio e permaneva in tale condizione. All'accesso del personale USCA per effettuare l'ennesimo tampone molecolare, la persona non era presente presso il proprio domicilio. Da informazioni assunte pare che la donna abbia fatto ritorno negli USA. Ad ogni buon conto, il personale intervenuto ha provveduto a deferire la persona all'autorità giudiziaria competente per la presunta violazione dell'articolo 260 del regio decreto 1265 del 1934. Inoltre, il fascicolo è stato trasmesso alla Compagnia Carabinieri di Agropoli affinché provvedesse ad informare il Ministero dell'Interno e a sua volta i posti di polizia di frontiera al fine di accertare se la stessa avesse o meno lasciato il territorio nazionale senza l'autorizzazione del Dipartimento ASL.